Il problema sussiste perché chiaramente non essendoci più prodotto ucraino e russo, anche chi usa prodotti che arrivano dall'est, si dovrà approvvigionare al prodotto italiano. Per cui è lì che succederà il pre-quo-quo. Praticamente chi utilizzerà questo prodotto, non essendoci di più, aumenterà il prezzo. Oltre al dramma per la perdita di vite umane, la guerra sta già provocando gravi effetti in termini economici e sociali. A lanciare l'allarme, in questo caso per il prezzo del grano, è Stefano Lorenzoni, presidente dei panificatori e pasticceri di CNA Arezzo. Il problema dove si pone? Si pone quando anche i mulini e le aziende che si occupano, che prendono il grano estero, quindi dalla Russia e dall'Ucraina, che sono i maggiori produttori al mondo di grano, acquisteranno il prodotto italiano. Quindi qui ci sarà un problema di mancanza di prodotto. A quel punto il prezzo aumenta, è già aumentato in borsa a Roma, a Milano e a Bologna, il prezzo del grano è già aumentato. Per cui di conseguenza aumenta il prezzo della farina e di conseguenza aumenta anche il prodotto finito al bancone. Per il consumo umano è un terzo di fabbisogno mondiale. I due terzi vengono destinati al consumo di mangimi. Per cui se manca il grano, se manca il mais, che comunque la Russia e l'Ucraina hanno bloccato gli approvvigionamenti, anche le aziende che si occupano dei mangifici prenderanno il prodotto italiano o comunque della zona destinato ai mangifici. Per cui un po' che manca il prodotto, un po' che ci saranno anche altre aziende di altri settori che se ne occuperanno, veramente può darsi che mancherà il prodotto. Quando si potrebbe concretizzare questo problema della materia prima? Se non si risolve le cose è molto presto, perché comunque le scorte sono riservate e il giochino è in funzione di determinati prodotti, di determinate quantità. Mancando un segmento importante come quello della Russia e dell'Ucraina, è chiaro che molto presto potrebbe succedere che manca il prodotto. Subito dopo l'invasione dell'Ucraina, il costo della farina di grano tenero è aumentato del 10%, una crescita che si va a sommare agli incrementi di materie prime già registrati a partire dalla fine del 2021 e all'impennata dei costi energetici e che sta rendendo anti-economica la produzione. La situazione come si sblocca? Si sblocca risolvendo il problema dell'Ucraina e della Russia e ritornando come prima, insomma, perché a quel punto, in questo momento ci sarà bisogno, il problema anche degli oli, girasole, mais e quindi andrà a ricadere anche sul mondo dei grassi, non solo delle farine, ma anche dei grassi, quindi burro, ok, chi non usa il burro usa le margarine, ci saranno il problema dell'aumento del costo della margarina. Non essendoci più margarina andranno a ricadere sul burro aumentando così ancora il prezzo del burro. È una catena molto importante che si risente tutti i giorni sui nostri prodotti.